Sì, è arrivata? No. Puoi fare due percorsi, sai? Ma non riesci a toglierla. La corda non ce l'ha attaccata. No, l'importante è che se c'ha la caffetta della ciascoglia non ce l'ha attaccata ancora. Ok, perché sennò quella magari te la immaglia, te la immaglia. Ciao, buona giornata. Grazie a te. Grazie.